Grazie. Grazie a tutti voi, no, 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 non smettete, non smettete. Volevo ringraziarvi per essere stati qua, alcuni di voi sono seduti dalle 6, quindi dopo stasera potete superare ogni prova, secondo me. Volevo dirvi due cose, la prima è che mi aspetto con Supermax, c'è una grande novità, il nostro programma radiofonico quest'anno, io vi ringrazio a voi, tutti quelli che ci ascoltano, magari molti non lo fanno, ma tutti quelli che ci ascoltano, perché da quest'anno è andato così forte su Radio 2, tanto che io non volevo tornare in TV con un varietà, e torno facendo vedere la radio, tutti i pomeriggi su Radio 2, tutti i pomeriggi su Radio 2, dalle 17 avrete il meglio di Supermax ogni giorno, tutti i pomeriggi alle 5, dall'8, l'8 di settembre, poi i radio dal 14. Poi invece voglio ringraziare, guardate io qua vedo, dal 3 al 27 luglio live, Raff, Verdiane e Greta, Renzo Rubino, Violetta, Morga, Antoni Abre, Orca Straccia, Simona Molinari, Cristina D'Avena, Paolo Belli, Andrea Berroni, Simone Schettino e me. Cioè questa è una grande manifestazione, una manifestazione come questa è una manifestazione che si fa tranquillamente a pagamento. Io credo che ogni tanto sia giusto, io per sicuro quando noi veniamo a fare questi spettacoli qua, a me non sono venuto gratis, a me mi hanno pagato, mi hanno pagato pure bene. Quindi vuol dire che c'è qualcuno che ci pensa un po' anche a quelli che in questo caso sono, sì anche clienti, ma a volte sono anche solo curiosi, sono solo amici. Io sono sempre diffidente di chi prende e basta, a me piace molto quando questo che è un centro commerciale, un posto dove si compra cose, roba, possa diventare quello che ha chiuso stasera, quello che può essere anche un nostro quartiere. Io quello che mi auguro è che c'erano sempre queste manifestazioni e spero che prima o poi non sia la delle anche sotto casa vostra, non sono qua. Grazie a tutti, buon'estate, ci aspetto in giro e si va di così da noi. Grazie a tutti, ciao.